Benvenuti a Trame Raccontate Male. Oggi vi racconto male Cavalleria Rusticana, ovvero sia il perfetto connubio tra una delle musiche più belle mai scritte per un'opera lirica italiana e uno dei libretti più brutti. Ma brutto, proprio scritto male. I personaggi sono cinque. Turiddu, e ringraziatemi perché vi risparmi lo strazio di compare Turiddu, scompare Turiddu. Santuzza, giovine donna disonorata, Lola, donna di dubbio e moralità ancorché sposata, Alfio, carrettiere con un caratteraccio, marito di Lola, mamma Lucia, madre di Turiddu. Cavalleria Rusticana è una serie di gelosia, tradimenti e forti emozioni che culminano col minimo sindacale di un'opera lirica, un morto, perché l'opera è breve, che però essendo morto ammazzato vale di più di un morto per malattia. L'opera è un compendio di tutti i luoghi comuni che vi immaginereste sulla Sicilia. Coppole, caldo e violenza. Se abbiamo quest'idea dell'isola, la colpa è principalmente di mascagni e di verga, si capisce. Sicilia è un paesino come tanti, fatto di tutti gli stereotipi del caso. Carretti siciliani, fighi d'India e un'ora da mantenere. Giorno di Pasqua. L'opera si apre con Turiddu che canta a Lola una canzone di amore, sesso e morte, concentrate in otto righe di numero. Turiddu brama Lola e la vuole. Infatti le dice, o Lola che dilatti la camisa, che vuol dire o Lola che dilatti la camicia. Come no? Un coro di bifolchi dall'animo gentile intona un canto di chiara ispirazione bucolica che recita, cantan le allodole fra i mirti in fior. Ma il mirti non è in Sardegna. Ah, c'è anche Sicilia. Nella piazza del paesello Santuzza chiede a mamma Lucia notizie di suo figlio Turiddu. Sì, proprio quel Turiddu che nell'introduzione voleva sbiottare Lola. Ma come sbiottare Lola non lo capiscono. Vabbè, spogliare. Santuzza si rivolge rispettosamente a mamma Lucia e lei subito la rimbalza con un secco. Sei tu? Che vuoi? E che caratteraccio? Alla richiesta di Santuzza, ossia Turiddu, mamma Lucia le risponde. Fin qui viene a cercare il figlio mio. Fin qui? È in piazza. È quello il paese. Insomma, mamma Lucia tratta la povera Santuzza a pesci in faccia. Santuzza allora ribatte. Fate come il signore a Maddalena, ditemi per pietà dove è Turiddu. Non ho capito, il signore aveva detto a Maddalena dove era Turiddu? Mamma Lucia, insomma, fa l'omertosa e non dice niente. Nel frattempo arrivi in piazza, perché l'ho detto, quello è il paese, al suo marito di Lola. Un carrettiere indifferente alle escursioni termiche e alle asperità climatiche che dichiara con orgoglio la sua isotermicità. Con soffi il vento gelido, cada l'acqua o nevichi, a me cosa fa? Che poi in Sicilia se lo sei le pendici dell'Etna, ma quando mai nevica? Il coro gli fa seguito con, oh che bel mestiere, fare il carrettiere, andare di qua di là. E chi si contenta gode. Contrario a ogni minimo scrupolo scaramantico, Alfio dichiara, ma spetta a casa Lola, che mamma mi consola, che è tutta fedeltà. Alfio lo sa tutto il paese che Lola se la fa con Turiddu. Manchi solo tu nel club. Ricordiamoci che Turiddu, vicino a casa tua, l'ha visto Santuzza, l'hai visto tu stesso e l'hai visto un altro centinaio di persone. Affronta la realtà. Santuzza confessa a mamma Lucia quanto è successo. La data a Turiddu. La fiducia, intendo. Ma lui è tornato dal suo primo amore, Lola. Allora, facciamo un passo indietro. Turiddu e Lola erano innamorati. Lei soprattutto. Infatti appena Turiddu era andato a militare, Lola aveva sposato Alfio. Cioè, ma tipo venti minuti dopo. A ritorno dalla leva, Turiddu trova Lola sposata, si consola con Santuzza, ma poi torna da Lola, quella quale intraprende una reazione extra coniugale che ai nostri tempi finirebbe a forum. Ma che allora poteva finire solo con un morto ammazzato? Almeno uno. Mamma Lucia è sconvolta da una simile rivelazione e infatti esclama. Che cosa viene a dirmi in questo santo giorno? Vabbè, non è che se te l'avesse detto domani cambiava qualcosa. Santuzza è disperata per il disonore ricevuto ed è convinta di essere destinata alle fiamme dell'inferno. D'altronde si è rillusa che le sarebbe bastato concedersi a Turiddu per conquistarlo. Ignara del detto. Femmina peccante, pigliala per amanti. Femmina cuciniera, pigliala per mogliera. E con una caponata se la cavava decisamente più a buon mercato. Arriva Turiddu e Santuzza comincia a frantumargli la sacca scrotale. E non mi ami più? E preferisci quella donna di facili costume di Lola? E certo lei è più bella di me? E tutto il repertorio delle menate che le donne ci fanno in queste situazioni. Esaurite inutilmente i metodi di persuasione dialettici, Santuzza propone a Turiddu di dare una sferzata al loro rapporto tramite l'uso del bondage, del sadomaso e del dirty talking estremo. Infatti gli dice battimi, insultami, tamo e perdono. Ma Turiddu non sembra interessato. Arriva Lola, cantando allegra come una passera scopaiola. Vedendo che suo marito Alfio non è nei paraggi, dice a Turiddu, forse è rimasto dal maniscalco ma non può tardare, lasciandogli intendere che ci sarebbe giusto giusto il tempo per una sveltina. Parte un battibecco fra lei e Santuzza e volano piume ovunque. Il battibecco si chiude con Santuzza che si rifiuta di entrare in chiesa perché dice che in chiesa ci deve andare chissà di non aver peccato. Ma io da piccolo ero cinturanea di catechismo e mi sembra di ricordare che sia l'esatto opposto. Alla fine Lola e Turiddu fanno tutto il possibile per far incazzare Santuzza, la quale appena arriva Alfio, il marito di Lola, decide di svelargli tutto e gli dice il signore vi manda. È il signore che vi manda! No, passavamo di qui per caso! Alfio, che invece bigiava catechismo e in un sacco e Pasqua in festa comandata, chiede a che punto è la messa? Che cos'è? Una partita di calcio? Siamo al quattordicesimo nel secondo tempo. Santuzza rivela ad Alfio che sua moglie non è esattamente un modello di fedeltà coniugale e Alfio la prende con filosofia. Dopo la sconcertante rivelazione Alfio giura vendetta in pronta consegna e Santuzza si pente subito di aver dato ascolto più ai suoi ormoni che al suo cervello. Alfio va quindi a cercare Turiddu per lavare l'onta del sangue. Turiddu accetta la sfida con il tradizionale morso dell'orecchio. Turiddu che fino a 30 secondi prima di Santuzza se ne sbatteva allegramente, viene preso all'improvviso da scrupoli di coscienza. Dice infatti ad Alfio che ha ragione e che se non fosse per la povera Santuzza, con la quale sente un irrefrenabile desiderio di sposarsi, al par di un cane mi farei sgozzar. Ma perché i cani si sgozzano? Siccome però non può lasciare solo la povera Santuzza, accetta il duello e promette ad Alfio vi saprò in core il ferro mio piantar. Nel finale dell'opera scopriamo che Turiddu aveva eccessiva fiducia nelle sue abilità col coltello e in 10 secondi netti Alfio lo uccide, lasciando disperate mamma Lucia che ci ha rimesso il figlio, Loda che ci ha rimesso l'amante e Santuzza che ci ha rimesso l'imene. Vorrei ricordarvi che iscrizioni al canale, like e commenti sono gratis ma obbligatori. Volendo potete perfino abbonarvi al canale per avere dei contenuti extra ma questo è optional. Un euro bucato a chi scrive nei commenti quale sarà la prossima opera che racconterò male.